Inserire indicatori ed expert advisor. Per inserire indicatori ed expert sulla tua MetaTrader, per prima cosa apri il MetaEditor. Apri la cartella expert se desideri inserire un trading sistema automatico, oppure indicatori se desideri inserire un indicatore. A questo punto copia e incolla il file desiderato, quindi chiudi questa finestra. Sul navigatore del MetaEditor fai clic con il tasto destro del mouse e clicca su refresh. Chiudi il MetaEditor e ripeti la stessa operazione sul navigatore della piattaforma. A questo punto l'indicatore o l'expert inserito è pronto per l'utilizzo. basterà selezionarlo e trascinarlo sul grafico. In caso di expert, verifica che il tasto autotrading sia attivo e quindi di colore verde. Grazie. Grazie. Grazie.